cari amici di meccanica agricola sono qui su una mantis per una praticamente una diagnosi per verificare la spia motore che si accende adesso andiamo avanti ok questa è una sciavola ma tanto è una da ev diagnosi ok però siccome sull'iniezione non mi fa entrare perché qui io non ho più leggeramenti proviamo qui proviamo con questo ok entriamo mi dice di accendere il quadro ok spento perché qua c'era dovrebbe comparire un difetto perché la spia del motore si è accesa ecco è presente un errore se non sbaglio però ecco pressione correttore aspirazione pressione aspirazione proviamo adesso di resettate perché prima mi dava praticamente sensore al baraccamo adesso proviamo a resettare che ho sbagliato scusate ok adesso usciamo adesso si è spenta insomma questa macchina mi dava un sacco di problemi poi c'era un tubo dello sfiato del motore rotto adesso l'ho messo a posto e la facciamo girare e poi insomma vediamo un attimino che cosa ricompare al limite io faccio un post per ora vi saluto iscrivetevi a questo canale se insomma se vi piace ciò che posto e ai prossimi video ciao ciao